Sindaco Luciani, Isola Ecologica a Francavilla, un progetto innovativo quello che avete messo in campo? Sì, veramente siamo orgogliosi di quest'isola, ne saranno due veramente. Questa la inauguriamo questa mattina, in settimana una seconda, dinanzi allo stadio comunale. Permetteranno di conferire rifiuti in maniera differenziata H24, quindi 24 ore assolutamente complete. Inoltre valorizzeranno i nostri rifiuti perché verso il conferimento di plastica, metalli, comunque di tutti i nostri rifiuti ci verrà dato uno scontrino con l'indicazione di un prezzo e quel prezzo indicherà lo sconto che io posso ottenere negli esercizi convenzionati. Quindi veramente un passo in avanti, mi risulta che siamo uno dei primi comuni di Abruzzo ad adottare quest'isola. Si accede con il proprio tesserino sanitario, la zona sarà videocontrollata, videosorvegliata e quindi non ci sarà possibilità di abbandono dei rifiuti. Con orgoglio oggi siamo qui a far vedere come funziona, l'abbiamo fatto assistere a delle dimostrazioni e ora i cittadini da questo momento possono venire a conferire. Tra l'altro per l'amministrazione comunale ci sarà un risparmio di costi notevole. Quest'anno noi abbiamo abbassato la Tari di 350 mila euro, cosa che ha comportato per le bollette dei cittadini un risparmio che è andato dal 7 al 10%. Intendiamo andare verso questa direzione, consideriamo che abbiamo portato in pochi anni la differenziata dal 30 e qualcosa quasi al 65%. Io ringrazio per questo la Cosvega e tutti coloro che si stanno adoperando in questo tema che è molto sentito, un tema ambientale che è molto sentito anche da noi e dall'amministrazione.